Beh, era una partita che temevamo molto, ovviamente, una partita difficilissima, non è stata, però siamo stati in vantaggio più o meno sempre, anzi forse sempre, non so, magari ditemi voi, mi sembra che abbiamo condotto all'inizio alla fine, sempre con margini o esigui o qualche volta anche in doppia cifra, però insomma sempre dei piccoli vantaggi, mai chiusa, perché quando magari abbiamo avuto qualche possibilità di chiuderla abbiamo fatto qualche errore, un po' evidente, però credo che i progressi ci siano, i progressi siano concreti e quindi dobbiamo andare in questa direzione, dobbiamo proseguire, magari su un'analisi della partita fatemi qualche domanda voi, per me è più un discorso generale, abbiamo un sistema di gioco che stiamo mettendo in piedi, stiamo insistendo, credo che si vedano progressi al di là di quello che possono essere le singole giocate o la gestione di una partita, che magari potrebbe essere fatta anche meglio, però il fatto che la squadra sia più solida in difesa, si passi di più la palla in attacco, abbiamo una gestione dei ritmi più da squadra rispetto alle prime partite che io ho allenato, voglio dire, non mi addentro a paragoni con la gestione precedente, parlo della mia gestione, credo che i progressi ci siano e quindi di questo sono contento, anche se mi rendo conto che abbiamo ancora tantissima strada da fare.